Sono stato a Grosselle, mostro di nuovo Grosseto. Qua c'è un'altra barriera. Ho percorso la pista ciclopedonale che collega Grosseto con Grosselle. Prima l'ho chiamata improvvamente pista ciclabile ma, come vedete, oltre all'icona della bicicletta c'è quella del pedone e quindi è una pista ciclopedonale. Prima di torno a casa faccio un giro da queste parti. Ora devo capire... Ah, ecco, la vedo la barriera che sta dall'altra parte, che è quella che dicevo prima. Non so se voi la vedete ma io la vedo. E niente, ora faccio un giro da queste parti. Poi il resto si vedrà. Mo chiuro. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione.